Lino Guanciale Lino Guanciale non credo abbia bisogno di grandi presentazioni, ma in ogni caso credo che lo conosciate tutti come attore di televisione, cinema e teatro, quindi sarà entrato nelle vostre case con il commissario Ricciardi, di Vallanzasca, però questa sera lo conosciamo in una veste inedita, direi, per la pubblicazione del suo primo libro, Inchiostro, che è uscito il 22 settembre di quest'anno in libreria per Ramud Robin Editrice. Prima di andare avanti con qualunque presentazione, io chiederei a Lino, che oltre scrittore è appunto attore, di recitare il suo stesso libro. Sì, che è una cosa assai curiosa. Io di solito non prendo tante fotte quando recito, leggo. Quando leggo le cose mie penso che leggerò molto male. Comunque, poi saluti torinesi e anche i miei più tanti. Intanto, prologo. Sera, solito bar, soliti colleghi, solita stanchezza, solito senso di inutilità. Toccherà ancora una volta a gine toniche e negroni sparsi, staccare la spina alla nevrosi quotidiana. L'eco di una battuta divertente le punge la nuca. Lei ride, scuote la testa e alza il bicchiere come per brindare a quello scampolo di leggerezza. La mano si ferma a mezz'aria. Rosaura sbianca. Dal polsino dell'elegante camicia bianca che porta sotto la giacca sbucano due parole. Es sueño. E che diavolo ci fanno lì? Posa il bicchiere, confusa. Ho già bevuto così tanto, pensa. Si guarda intorno, tutto normale. Chiude gli occhi, sfrega le mani sui pantaloni per resettare i pensieri. Alza il braccio destro e solleva lentamente la manica della camicia. E le parole, ora, sono quattro. La vita es sueño. A punta fine, fra polso e avambraccio. Tatuaggio ben fatto, non c'è dubbio. Ma quella mattina, dopo la doccia, era ancora al suo posto. Fianco sinistro. Quasi sulle ultime costole, è teso leggermente verso la schiena. Non sa cosa pensare. La testa in acqua, giornata impegnativa. Troppo. Respira di nuovo. Stanchezza, gin, aria di chiuso. Un piccolo sbandamento ci può stare. Quelle parole sono solo nella sua testa, non c'è dubbio. Io ho solo voglia di un altro tatuaggio, ragiona tutto qui. Il polso è un punto ideale, ci ho proiettato sopra il mio preferito. Eh, la testa fa brutti scherzi a volte. Ci penserò domani, si dice, mentre porta un'ultima volta il bicchiere alle labbra. non è finito. Ma le pagine sono grosse. Prende le sue cose, saluta gli altri e se ne va. Già non pensa più a quello che a questo punto non è più convinta di avere visto. L'aria fredda rimette al mondo. Una bella dormita farà il resto. Quindi, per cominciare a farvi entrare nella storia di Rosaura, come avrete intuito, questa ragazza che ha un aperitivo con dei colleghi, improvvisamente un po' nei fumi dell'alcol, scopre che sul suo braccio c'è qualcosa che lei non aveva mai visto lì, perché era da un'altra parte nel suo corpo. Quindi, senza voler svelare troppo della storia, la vicenda di Rosaura si svolge in realtà in un periodo molto breve, quindi una sera e un giorno, e questo però è sufficiente a cambiarle la vita. E a me ha ricordato un po' 24 ore nella vita di una donna, che è un libro di Spike in cui bastano 24 ore nella vita di una donna per cambiarle completamente l'esistenza. Una cosa molto interessante, secondo me, anche da quello che hai letto, è che il sogno è la dimensione principale per Rosaura e l'esergo di questo libro fa riferimento al sogno, quindi secondo me è una cosa importante che ha dato il lal alla tua storia. Sì, assolutamente, in qualche modo è anche il modello su cui è calcata la narrazione, cioè il meccanismo con cui i sogni funzionano. Soprattutto questo prologo e quello che viene immediatamente dopo, cioè la scena del risveglio a casa di Rosaura, ho cercato di renderli il più possibile attraverso delle pennellate rapide che fotografassero le azioni del personaggio e in base a quelle azioni quello che ha delle ripercussioni psicologiche. Cioè non è un personaggio contemplativo, non è una narrazione contemplativa, è in qualche modo drammatica, è in qualche modo una drammaturgia. Ci sono tre momenti in cui l'azione si sospende, c'è uno spazio di parva, diciamo così, riflessione. Per il resto è tutto un succedersi di cose e di immagini soprattutto che investono la protagonista. E in questo lo seguo è, come appunto dice l'esergo del testo, la vita e il sogno di Calderon della Barca. Rosaura è il nome della protagonista maschile di quel testo. Sigismondo è il protagonista maschile. C'è la contrazione di Sigismondo e Sigmund. C'è un personaggio che così si chiama all'interno del testo, noto soprattutto col diminutivo ulteriore, Siggy. Ed è veramente in qualche modo l'asse fondamentale, come in Calderon della Barca, quello fra queste due figure. Solo che qui c'è un ribaltamento. Se nell'originale teatrale secentesco il perno dell'azione è Sigismondo e ciò che in qualche modo fa da catalizzatore per lui a quello che succede in qualche modo l'innesco, dato proprio dalla relazione con Rosaura, qui accade l'inverso. Ovviamente quello che sto dicendo non significa mettersi a paragone con i modelli che si prendono. Mi è successo che per una volta, io che nella vita ho sempre scritto però più nella dimensione degli appunti per il mio mestiere, prima un po' scherzavamo sul fatto di essere nerd e appuntarsi qualunque cosa. Beh, anch'io sono così. Ho riempito nella mia vita taccuini su taccuini di abbozzi di storie, ritratti di personaggi, alcuni li ho fatti, alcuni no. Bozzi di diari che non ho mai avuto la pazienza e la costanza di fare con la giusta puntualità tutti i giorni della mia vita. Quindi la scrittura ha sempre fatto parte della mia esistenza e della mia professione. Però per la prima volta mi è successo che una intuizione narrativa, questa di Rosaura colpita da questa follia dei suoi tatuaggi, dell'inchiostro sulla sua pelle, corresse verso un finale. Cioè non si fermava, ecco, alla scrittura, tra virgolette, di servizio e di approfondimento su dei dettagli. Corriva proprio verso qualcuno che la dovesse leggere. L'imprinting iniziale è stato proprio quello dell'immagine che è venuta a me. Un po' come i sogni, ti ricordi delle macchie, no? Delle macchie e delle azioni. Qualcuno che fa qualcosa, che neanche distingui bene cosa sia, se ti parla non sai cosa sta dicendo in realtà. E ho cercato di trasferire questo che è l'imprinting della storia, il come è venuto in mente a me, in tutta quanta la macchina della narrazione. Ultima cosa che dico, con Luigi Politano che è l'editore di Roundropin, quel meraviglioso ragazzo che si trova all'angolo. Eravamo partiti durante il lockdown da ma ti andrebbe di scrivere il soggetto per una graphic novel? Sì, mi è venuto un po' a lungo, ma non l'ho ostacolato insomma. E quindi ecco, è questo. Come giustamente notava Sofia, si tratta di un pezzo chiuso in qualche modo, innescato e interrotto da un buio. Esattamente come funziona con i sogni. Ma l'idea di scrivere... È vero che il libro non è scritto in prima persona, però comunque noi seguiamo Rosaura dall'inizio alla fine, molto a stretto contatto. E mi è molto colpito che tu abbia scelto, non è un'impersonificazione, ma quasi con una donna. C'è un motivo per cui hai fatto questa scelta oppure è un personaggio che è andato per quanto suo? Devo dire che un altro testo che a me è molto caro, teatrale, è Calderon di Pasolini. Pasolini già lì, come dire, mette il fuoco della narrazione, pur essendo un frullato di sogni il testo, calcato anche lì dalla vita e il sogno di Calderon, della barca, mette l'accento su Rosaura più che sugli altri figure. Quindi in qualche modo evidentemente nella mia testa Rosaura girava come protagonista di qualcosa. Poi chi prenderà il libro? Non so se l'avete già preso, se intendete comprarlo, c'è qualcuno che già ha fatto i compiti, quindi lo mostra, lo stenta. Beh, vedrete che la dedica è molto chiara, insomma. Cioè esiste una persona che l'ha ispirata, una persona reale, la mia compagna di vita, insomma, la mia moglie. All'epoca non eravamo ancora sposati, però questa idea dei tatuaggi sul corpo di qualcuno, che sono in qualche modo un modo, una maniera, una strada attraverso la quale tu ti riappropri di te stesso. Cioè il tatuaggio è un gesto fortissimo, no? Quando non è banalmente modaiolo, diciamo. Significa che un pezzo del tuo corpo tu te lo rifai, in qualche modo, e a quel punto è veramente tuo. E il fatto che lei abbia questo atteggiamento nei confronti della scrittura sul proprio corpo ha ispirato questo... l'innesco, diciamo così, di questa storia. Perché l'ho chiamata Rosaura sono quei misteri intuitivi che... Questo te l'avrei certamente chiesto. Anzi, questo te l'ho chiesto tu. Sì, è successo. Cioè ho sentito che questo sogno non poteva che avere una protagonista con quel nome e non ho assolutamente deciso in partenza di raccontare la storia di una donna, di mettermi nei panni di una donna. È avvenuto. La qualcosa mi ha anche... Cioè... Mi sono sentito molto bene con me stesso per il fatto che sia avvenuto senza doverlo progettare. Perché... Non so... I primi a non dover discriminare, diciamo così, i protagonisti delle proprie storie, in un modo o nell'altro credo debbano essere quelli che li inventano. E il fatto che sia fiorita questa storia immediatamente al femminile, mi è sembrata una cosa molto coerente, per esempio, con il mio percorso teatrale, dove il rapporto fra il maschile e il femminile è sempre stato uno dei temi forti dei lavori che ho fatto. Ma rispetto alla... Perché adesso tu mi dici che hai sempre scritto, ma io ho visto moltissimo la visione di una persona abituata a recitare, ma soprattutto a guardare film, teatro, è molto visivo. anche il modo in cui il libro è scandito, i vari capitoli. E quindi mi chiedevo se secondo te è un po' una macchina da presa che segue, che segue Rosaura. Perché io ci ho visto quasi un road movie, una cosa... C'è una vicenda iniziale e poi dobbiamo tutti correrle dietro per vedere dove va a finire. È verissimo. È verissimo. In alcuni momenti Rosaura è in oggettiva, cioè c'è la macchina da presa che la segue o la precede. In alcuni momenti la macchina da presa è Rosaura stessa. Adesso non voglio poi spoilerare, è una piccola cosa di qualche decina di pagine, quindi non è che vi starei rivelando chissà quale scoop. Però ci sono alcuni momenti in cui è evidente che ogni cosa è vista con i suoi occhi nel momento in cui la sta vedendo lei. Ce ne sono altri di momenti in cui è come se fosse all'interno di un'inquadratura molto larga in cui le succede qualcosa più o meno nel momento in cui è al centro di questa inquadratura, come indicano le buone regole della cinematografia. Quindi sì, c'è sicuramente in questa scrittura una filiazione professionale. D'altra parte gli imprinting vanno rispettati. Io non sarei capace, perché non è il mio mestiere, di scrivere in un'altra maniera. In qualche modo questo che è un libro che ha molto a che fare con il tema del secolo, l'identità, è un libro identitario, nel senso che rispecchia molto il mio approccio alle cose, inevitabilmente. È, credo, un suo piccolo pregio questo tipo di onestà. C'è dentro, per l'appunto tanto vissuto teatrale, c'è dentro il desiderio di correre insieme a una figura a cui succedono delle cose, che è una regola drammatica, ripeto, come dicevo prima. C'è perfino il rispetto delle unità aristoteliche, più o meno, perché succede tutto quanto in una giornata sola. Tutte cose di cui non mi sono minimamente accorto. Da qualcosa, diciamo così, mi fa pensare che effettivamente, non avendolo ostacolato, è venuto fuori come un gesto di scrittura spontaneo. Io trovo che tu abbia nominato due termini che secondo me quando si legge il libro sono evidenti insieme, che sono desiderio e identità. Perché lei in qualche modo si trova a confrontarsi con una difficoltà di dare sfogo al suo desiderio, di trovare un'identificazione che poi mi sembra impossibile per ciascuno di noi con l'identità. Quindi questo mi sembra uno dei temi fondamentali. E una cosa che ho trovato, credo che chiunque legge il libro lo possa ritrovare su se stessi, è una difficoltà a vivere il corpo proprio, il corpo vissuto. Perché prima parlavamo chiacchierando di Emilio Garroni, lui ha scritto di questa esperienza che forse qualcuno di voi avrà fatto, che la mattina nel letto un po' confusi si vede il proprio piede e ci si spaventa, poi diceva no, sono io. Questa secondo me è la modalità con cui lei fa esperienza di se stessa attraverso i tatuaggi che da un certo punto di vista, non so se sei d'accordo, sono un po' il nostro modo di mettere dei punti fermi, di comunicare. Io sono fatto così, io personalmente ne ho, quindi penso che sia il ragionamento un po' di chiunque. scrivi sul tuo corpo per comunicare agli altri e per comunicare a te stesso. Quindi questa secondo me è una tematica. Sì, il rapporto con il corpo è da sempre il mio interesse fondamentale, soprattutto ovviamente nel teatro che faccio, perché il teatro è quello fondamentalmente, ha a che vedere con quel mistero lì, cioè il potenziale, l'efficacia, la poeticità di un corpo che si mette di fronte a degli sguardi che sono corpi anch'essi e che in qualche modo diventano lui o lei nel momento in cui la giusta relazione si innesca. E questa indagine sulla presenza che io ho portato avanti nei miei lavori teatrali, ed è il mio interesse fondamentale riguardo il teatro, ha generato tutto un modo di pensare il fare teatro molto preciso, che mi ha portato a fare tanto lavoro educativo, mi ha portato a cercare di sfondare il più possibile una frontalità scontata con gli spettatori, cioè chi conosce un po' i lavori che ho fatto negli anni sa che per cercare di, non dico guidare il pubblico, ma procedere insieme al pubblico in una direzione di messa in discussione, del sedersi a vedere una cosa, ma invece passare alla logica di incontrare qualcuno e attraverso qualcuno scoprire qualcosa di me, che significa andare a teatro con un'ambizione piuttosto alta, ho speso moltissimo lavoro. Tutto questo è tornato in qualche modo qui, perché come hai detto perfettamente il centro della vicenda di Rosaura ha a che vedere con una forma di spossessamento. Cioè, Rosaura è evidentemente in mezzo a una transizione, ci è piombata, come succede con le transizioni, non l'ha voluta, probabilmente l'ha negata o ne è fuggita per molto tempo. quello che le succede è di non riconoscersi, di non riconoscersi più, di non sapersi più, come si può dire impropriamente utilizzando un'espressione meridionalistica, di non sapersi più al punto che gli strumenti che ha utilizzato per appropriarsi di sé sono sovvertiti. E non solo, sono proprio quegli stessi strumenti che sono il codice attraverso il quale lei ha manipolato un po' se stessa per ricostruirsi come voleva, o per cercare se stessa, sono loro adesso a indicarle una strada. Quindi, in qualche modo, in questo gioco di dissociazioni, quello che mi sembra di aver cercato di raccontare è anche che c'è sempre comunque qualche parte di te o del percorso che hai fatto che poi da certi momenti ti può tirare fuori. Non tutto il lavoro che spendi per conoscere te stesso è fatto in vano, anzi, i tatuaggi sono ciò che la sciocca, che la disperde, la disorienta, ma sono anche ciò che può farla ritrovare. Il bello è che non credevo che succedesse così, però è successo così. Un po' come quando hai una specie di piccola epifania riguardo a un personaggio da interpretare. Scopri che un certo modo di camminare, mentre stai per strada e cammini tu e cerchi di fare la camminata sua, quel modo funziona. E allora comincia a camminare come lui, cosa che porta anche a delle scene imbarazzanti, ovviamente, nella vita. però questa immagine è stata proprio la prima riguardo questa storia da scrivere. Cioè il fatto che il corpo di una persona che ha molto lavorato per riconoscerlo, che è il problema di tutti comunque, come diceva benissimo Sofia, a un certo punto perda i riferimenti. E allora che succede? Eh, questa è una cosa che io ho particolarmente amato, perché Rosaura è un personaggio che ha una lieve tendenza alla razionalizzazione. Quindi di fronte a una vicenda che non esiterei a definire kafkiana, perché a un certo punto uno trova dei tatuaggi che si spostano sul proprio corpo, a me verrebbe in mente che la prima reazione è il panico. e invece lei inizialmente dice vabbè vado a dormire, vediamo domani che succede. E quando nuovamente si risveglia si trova di fronte allo stesso problema che a quel punto va affrontato. Quindi non so se ti piacerà quello che sto per dire, ma io l'ho letta come una fiabba psicoanalitica, nel senso che questa ragazza ha una tendenza alla somatizzazione, nel senso proprio di ogni sua difficoltà. e la pelle è nostra ma è esterna, non so come dire. Quindi lei lascia tutto scorrere sulla pelle senza preoccuparsene. Secondo me questa vicenda è invece mettere Rosaura di fronte al fatto compiuto che lei deve interiorizzare quello che le sta succedendo. Sì, assolutamente. Fiabba psicoanalitica è esattamente il guanto di questa mano. È giustissimo quello che notavi riguardo questo tipo di percorso, che in effetti è un percorso di riadesione a se stessa. Cioè a chi leggere il libro, mi auguro che poi non ci metta una vita perché è fatto per essere attraversato un po' da un soffio, vedrà che nel finale è quasi come se non le importasse più di quello che sta succedendo. Quello che pensa a fare Rosaura è esprimersi attraverso l'esplosività che il suo corpo può portare. E sono fra l'altro le mie scene preferite, probabilmente quelle, perché in qualche modo sono anche quelle più teatrali, cioè quelle che hanno più a che vedere con quello che succede a qualcuno che sta in scena con il proprio corpo in ostensione davanti ad altri nel momento in cui sente che sta funzionando. Io da piccolo suonavo il pianoforte, ho smesso perché succedeva che per quanto studiassi non studiavo mai abbastanza, perché ero pigro, da arrivare a quel momento in cui tu non ci pensi più a quello che fanno le tue mani, perché nel momento in cui lo pensi sbagli. E siccome non entravo mai in quella dimensione nirvanesca quasi del fatto che la musica fosse un tutt'uno con quello che stai facendo, tu il pianoforte, lo spazio intorno, un flusso che tu non devi interrompere. Fai un errore se cominci a pensare ecco, mo tasto nero col dito quattro. Non riuscivo ad arrivare a quel punto perché mi sarebbe costato troppo studio. Ho smesso. Ho smesso. Se vedo un pianoforte, eccolo qua. Se vedo un pianoforte mi provo un'attrazione fortissima. Mi piacerebbe moltissimo mettermi lì a suonare qualcosa e sarai anche in grado di farlo, ma non lo faccio perché ho provato allora un'esperienza di shock. Evidentemente avevo il desiderio di accedere a quel tipo di dimensione di, come dire, dionisiaca pervasività di te stesso un po' in tutto lo spazio che ti circonda. E mi attendeva il teatro però per riuscire ad avercela. Ecco, intendo che sono le scene più teatrali quelle finali o sotto finale di Rosaura perché avviene a lei quello che succede a chi sta suonando e non pensa più a quello che sta succedendo. Non intellettualizza più, non razionalizza più. Arriva un momento in cui non è vita e basta, ma comunica e basta. Cioè è il linguaggio che sta esprimendo. Non c'è più una dissociazione fra la forma, il contenuto, eccetera. Può sembrare un delirio quello che sto dicendo, ma quando sei in scena le cose funzionano. È esattamente quello che provi. Ti senti portato da qualcosa che sei tu stesso a innescare, che non sai da dove parte, non sai dove arriva ma non te ne frega niente. Sei soltanto che non ci devi pensare, te la devi godere e basta. È estasi, è un'estasi. Quindi sì, in qualche modo desideravo che lei facesse esperienza di quello che in qualche modo cerco io. Quasi tutte le volte, no, tutte le volte, che faccio anche un piccolo reading. È il motivo per cui quando ci sono le persone davanti succede che vuoi sempre quella cosa lì. Perfine adesso, ho tanto parlato perché cercavo una piccola estasi. Un pochino l'ho avuta. Però, appunto, questa dimensione dei tatuaggi che comunicano gli altri, il pubblico di fronte a noi, la comunicazione. La mia impressione è che Rosauro non trova una chiave in se stessa, ma questa è una cosa molto positiva. Cioè questo è un libro di apparizioni, senza volervi svelare tutto, ci sono moltissimi personaggi che lei incontra. E quindi i personaggi che fanno anche parte della sua vita la mettono di fronte alle questioni per lei più importanti. Quindi è un libro di apparizioni per quanto mi riguarda. Esattamente. Quindi se ti va di parlare di qualcuno di loro... Sì. Ok. È esattamente questo. È una storia di apparizioni. E riguardo il tema dell'identità, ognuno può pensarla come vuole. Cioè io non censuro nessuno. Cerco di non censurare a me stesso. Ecco, quello è l'unico impegno che mi pongo. Tra i due opposti, in cui poi c'è tutta una scala di grigi in mezzo, vi rendo conto. Cioè l'identità è un monolite da difendere mettendo ferro e fuoco ai confini di sé, da conservare uguale a se stesso, eccetera, eccetera. O è un orizzonte mobile, un divenire liquido la cui natura proteiforme va accettata e cavalcata in qualche modo, no? E anche usata. Io propendo di più verso quest'altro versante. E tutto sommato è quello che succede in questo testo. Cioè il tema dell'identità, che è un tema fortissimo del testo. Abbiamo parlato di corpo, di appropriarsi di sé, di estasi, eccetera. E i nomi non sono casuali, poi. La fila psicoanalitica ruota intorno a un bambino che si chiama Ziggy, quindi... Infatti era facile. In tutto questo quello che accade a Rosaura è che smette, almeno per ora, poi non sappiamo che cosa succederà nella sua vita dopo questa esperienza, smette di cercare risposte definitive. Smette di cercare un io che sia graniticamente fermo, identico solo a se stesso. Accetta il cambiamento fondamentalmente come orizzonte. e accetta il fatto che, ed è uno dei motivi per cui secondo me l'identità come monolite, in realtà ogni forma di conservatorismo non hanno senso, a chi mi conosce lo sa, è che la memoria non si chiude mai in un vero e proprio passato. Cioè, queste figure che lei incontra fanno evidentemente queste apparizioni, fanno evidentemente parte della sua storia personale. Anagraficamente alcune le ha perse, no? Di queste persone che incontra. Però sono lì, il rapporto con esse è un rapporto in qualche modo vivo, è un rapporto che comunque sia sta continuando a coltivare lei e il passato in qualche modo continua a parlarti. Influenza e il presente determina il futuro a partire da quello che noi decidiamo di fare. Quindi qualunque logica di compartimentamento stagno è, secondo me, sciocca, cioè porta soltanto a stare molto male. Siccome Rosaura tutto smato una cosa la vuole, vuole stare bene anche se non lo sa, ci sta. Ci sta e quello che avviene è che in questo viaggio, che per lei è realtà, realisticissimo, incontra cose, persone che non sarebbe realistico che incontrasse. Perché i sogni sono di fatto forse la dimensione più vera che viviamo. Io volevo anche portare la tua attenzione sui disegni che accompagnano il libro, perché ovviamente sono una parte molto importante. Sono le illustrazioni di Daniela Volpari che sono molto belle. Tra l'altro il mare ricorre costantemente. Questa è un'altra cosa che avevo notato fin dal principio. lei si sveglia l'impressione di stare in una specie di bungalow al mare. E quindi ti volevo chiedere queste, perché tu hai cominciato dicendo avevamo pensato a un graphic novel. Quindi le immagini fin dal principio erano all'interno. Perché non è così comune trovare un libro illustrato. Sì. Quando poi l'idea graphic novel è tramontata, perché comunque questo aveva tutte le fattezze di un racconto lungo, diciamo. e comunque abbiamo deciso insieme a Luigi di tenere le illustrazioni. Io non ho mai avuto dubbi che fossero necessarie. Perché a me piaceva l'idea che chi si trovasse il libro davanti avesse davanti questo tipo di oggetto, in cui fra scrittura e immagini c'è un rapporto interpretativo. nel senso che quella che Daniela ha realizzato è il suo inchiostro, è la sua rosaura, è quello che ovviamente ha detto a lei questa storia. E a me piaceva che l'idea che chi, lettrice o lettore, avesse davanti il libro si trovasse così davanti già un primo invito a costruirsi in qualche modo il proprio cammino di immagini e di rappresentazione. Per di più, a me ha molto colpito il lavoro di Daniela, perché, dico anche sinceramente, all'inizio le prime proposte non mi convincevano così tanto, perché mi immaginavo qualcosa di molto più scuro, di molto più dark, visto quello che sta succedendo a Rosaura. però poi ho capito che invece Daniela aveva perfettamente colto questa chiave della fiabba di cui parlavamo e l'ha resa, peraltro, con una serie di gromie, secondo me bellissime. Ci sono alcune delle immagini che danno proprio l'idea di quanto siano preziosi i ricordi che Rosaura riattraversa. Sono un paio di figure che vengono disegnate e colorate, in particolare c'è un'illustrazione che a me fa pensare a Klimt. E poi c'è un'estetica, la sua, che mi ricorda tantissimo, un cartone che adoro, che è Belleville. Quindi mi ha innamorato già con questo. E qualcuno poi nelle varie presentazioni che abbiamo fatto ha anche tirato fuori, giustamente, l'esempio del piccolo principe, di fronte al quale uno si ferma e dice no, un po' meno, non per comparare. Però l'oggetto ha innegabilmente un'affinità e tutto sommato credo che in questo ci sia una coerenza, perché effettivamente siamo nell'orizzonte della costruzione fiabesca. Per quanto, ecco, il termine non vada inteso corrivamente o commercialmente, qualcuno ha anche domandato ma un libro per bambini? No, un libro per tutti e tutti. Dai 0 ai 99 anni, se vi piace. Certo, se sei proprio piccolo, una mano da qualcuno più grande hai nel bisogno per riuscire a orientarti. Però ecco, è un oggetto ambiguo materialmente questo libro. E mi piace molto che sia così. 五ere. Un Хорошо. E' un altro mixed mondo. E' un teşekkür. E اسco. E' un ottimo forno di una top docura. E' warum e che hai nella topatura di una topatura di una season e allaymcheck si быvevi. E' un proverb.